Cari amiche e cari amici, quanto vi leggerò è veramente impressionante, perché René Guénon fu veramente uno studioso di eccellente livello. Oggi girano moltissime profezie, soprattutto riguardo a questa situazione che stiamo vivendo, ma tutte queste profezie sono molto generiche, si possono interpretare in tantissimi modi. René Guénon, invece, e la sua grandezza consiste proprio nel fatto che in saggi come Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi, in particolare in questo saggio, ma anche in tanti altri, dà una descrizione della fine dei tempi, non legate a forme di millenarismo, a strane visioni, allucinazioni, a figure che dall'Aldina appaiono e parlano. No, fa un'analisi secondo le dottrine tradizionali e vedrete adesso quanto è impressionante, quanto corrisponde questa analisi. Allora, accennavo Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi, che è un saggio assolutamente da leggere, proprio tra i fondamentali. È difficile, ve lo dico subito, quindi o siete abituati un po' al linguaggio filosofico, altrimenti non lo leggete, però non vi scoraggiate soprattutto all'inizio, perché Guénon utilizza un po' il trucchetto che utilizzavano gli antichi alchimisti, scrive in maniera molto complicata le prime pagine, proprio per far desistere dalla lettura chi non deve leggere. Ma è un saggio incredibile, Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi. Scritto, era appena finita la guerra, 1945. Guénon parla della modernità e individua il periodo che stava vivendo, ma ci dà tantissime indicazioni anche sui nostri giorni, adesso nel 2021, su quella che è la la fine dei tempi secondo la dottrina dei shigli, secondo la dottrina degli yuga, che collocano la modernità nel punto più basso della storia. Adesso vi spiegherò in che senso. Questa conclusione della fine dei tempi sarà caratterizzata da una catastrofe, ma non necessariamente. Questa catastrofe potrà esserci o meno, a seconda di come ci comporteremo noi esseri umani, a seconda di quello che faremo noi esseri umani. Ma per il resto tutto è già delineato, ma non in senso fatalista. È un po' conoscere la dottrina dei shigli. È un po' come per gli studiosi del meteo, conoscere le stagioni. Noi tutti sappiamo le caratteristiche dell'inverno, dell'estate e così via, delle stagioni. Quindi potremmo prevedere, se noi siamo in estate, noi possiamo fare previsioni e dire tra poco cadranno le foglie dagli alberi e così via. Noi descriveremo l'autunno. Poi in autunno potremo descrivere, conoscendo il funzionamento delle stagioni, l'inverno. Quindi se ci siamo, mettiamo in un paese di alta montagna, potremmo dire ecco, da qui a un mese, un mese e mezzo, all'incirca, le montagne si ricopriranno di neve e così via. Perché possiamo fare queste previsioni? Perché siamo maghi? Perché riusciamo a prevedere il futuro secondo qualche strana alchimia? No, semplicemente perché conosciamo quelle leggi che regolano il tempo a seconda delle stagioni. È la stessa cosa per i cicli cosmici. Quindi studiando, approfondendo come funzionano i cicli cosmici, si può arrivare a comprendere gli accadimenti anche futuri, ma in maniera molto diversa, ad esempio, dall'astrologia o situazioni analoghe o conoscenze analoghe. No, no, qui, ripeto, si tratta di tradizioni, di studi tradizionali. Adesso vedremo cosa intenderà per fine dei tempi René e Guénon. Allora, innanzitutto la modernità non è il vertice, non è questo splendore, il sol dell'avvenire, insomma tutto quello che ci hanno dipinto dall'illuminismo in poi. Quindi non costituisce l'apice dei tempi, come vuole la teoria del progresso, che tutto è miglioramento, no, assolutamente. Secondo le dottrine tradizionali la modernità è proprio il punto più basso che si raggiunge nell'ambito del sviluppo delle epoche che si sono succedute fino a qui e della dottrina dei cicli, che è esattamente come le stagioni sono quattro. E così i cicli sono quattro. Noi ci troviamo in un ciclo che gli orientali chiamano Kali Yuga. Nella nostra tradizione, nell'antica Grecia, la chiamavano l'età del ferro, ma è la stessa identica cosa. Adesso vi leggo un brano, un piccolo brano tratto proprio dal regno della quantità. Tenete presente che lo scriveva nel 1945 questo, quindi a guerra finita. Negli individui la quantità predominerà tanto più sulla qualità quanto più saranno ridotti ad essere, se così si può dire, dei semplici individui e quanto più saranno appunto per questo separati gli uni dagli altri. Il che, si badi, non vuol dire affatto differenziati, poiché c'è anche una differenza qualitativa che è proprio l'inverso di quella differenziazione del tutto quantitativa che è la separazione della quale vi sto parlando. Tale separazione fa degli individui soltanto unità, nel senso inferiore del termine, e del loro insieme una pura molteplicità quantitativa. Al limite questi individui saranno paragonabili e pretesi atomi dei fisici, sprovvisti cioè di ogni determinazione qualitativa. Ed è questo il senso in cui il mondo attuale si dirige. Quindi, poi continua, non c'è da guardarsi intorno per constatare che ovunque e sempre più ci si sforza di ricondurre ogni cosa all'uniformità. Si tratta degli uomini stessi, delle cose in mezzo alle quali vivono, ed è evidente che un risultato del genere non può tenersi se non sopprimendo, per quanto possibile, ogni distinzione qualitativa, per dirigersi verso un'accentuazione sempre più marcata della separatività. Questa uniformizzazione rappresenta uno degli aspetti più importanti del mondo moderno. E tra l'altro noi che ci avviciniamo proprio in un processo di accelerazione a un tipo esasperato di separatività, ce ne rendiamo conto proprio dalle mascherine. Ghenon, certo, non è che pensava alle mascherine o a cose del genere. Però anche questo periodo riguarda lo studio, potremmo definirlo anche profetico di Ghenon rispetto a quello che stiamo vivendo. Poi l'individuo differenziato parla, c'è un tipo di differenziazione che è positiva, che è dell'individuo che si differenzia dagli altri perché si distacca per consapevolezza e per conoscenza dagli altri. Invece questo tipo di separazioni tra individui, che lui definisce unità in senso inferiore, qui si riferisce a una molteplicità quantitativa, quindi è il predominio proprio della quantità, che è la caratteristica proprio dell'età moderna. Vediamo che Ghenon nel suo studio, poi sarà ripreso anche da Evola da questo punto di vista, fa uso dei concetti di modernità e tradizione. Quindi al contrario degli illuminismi che iniziano la sovversione, quindi ribaltano nel senso demoniaco, potremmo dirlo, oppure a seconda della caratteristica tellurica propria dell'illuminismo, dove si scrive la Dea Ragione con la D e la R maiuscole, dove si chiama illuminismo la parte più oscura, dove inizia proprio la discesa negli inferi che stiamo vivendo, nell'inferno, nel regno della quantità, cioè la parte finale proprio dove tutto viene accelerato, parlerà anche di questa accelerazione in questo saggio Rene Ghenon. E tutto il Rene Ghenon, quindi in questa visione dove oppone la modernità alla tradizione, offre una spiegazione legata alla visione tradizionale, cioè l'uomo è inserito nel tutto, quindi in un ordine cosmico, e si deve integrare nel tutto. Più si allontana da questo tipo di integrazione, quindi più perde il contatto con la sua spiritualità, che è l'elemento unitivo con il tutto, e più l'uomo si separa dal tutto, illusoriamente, perché non potrà mai separarsi dal tutto, ma in questa illusione subirà poi delle conseguenze in termini di sofferenza, di devastazione della natura. Le dottine tradizionali tenevano conto di questa integrazione dell'uomo nel tutto. Invece la scienza e la frammentazione della scienza, che prende un concetto e lo analizza separatamente dal contesto, era anche la critica che Nietzsche faceva alla scienza, questo a un certo punto ci separa anche dalla nostra parte più profonda, e quindi la modernità diventa un'anomalia, e scrive a questo riguardo, sempre René Guénon, la civiltà occidentale moderna appare nella storia come una vera e propria anomalia, fra tutte quelle che si sono più o meno completamente conosciute, questa civiltà è la sola essersi sviluppata in un senso puramente materiale, questo sviluppo mostruoso, il cui inizio concide con quello che si è convenuto chiamare rinascimento, è stato accompagnato come fatalmente doveva da una regressione intellettuale corrispondente, se non diciamo equivalente, è perché si tratta di due ordini di cose tra i quali non può esistere nessuna misura comune. Allora, intellettuale qui intende l'intelletto nel senso medievale, nell'intuizione, nella capacità che abbiamo di conoscere, nella capacità metafisica che abbiamo. Però ecco, interessante che dice, è l'anomalia, cioè tutti quanti, i progressisti, quello che fanno studiare a scuola, l'illuminismo, finalmente, Voltaire, D'Alembert e così via, quelli che danno in là la civiltà moderna, Guénon ribalta tutto e dice no, quello lì, il cosiddetto illuminismo, in realtà è proprio l'inizio dell'accelerazione della forza oscura, perché il vero illuminismo, nel senso nobile della parola, il periodo luminoso, è stato il Medioevo qui, per quanto riguarda la nostra storia. La scienza stessa, dedicherà dei capitoli alla scienza anche di Julius Evora, la scienza moderna non è altro che un impoverimento della vera e antica scienza, un residuo, una sorta di scarto, legata alle concezioni materialistiche e la tendenza sempre a ridurre tutto nella quantità, tutto nella quantità, pensate pure alle indagini, alle statistiche che fanno, nella politica, anche la politica è ridotta a quantità, a percentuali, è tutto, questa è proprio la fase ciclica finale del Kali Yuga, del periodo che stiamo vivendo, del ciclo che stiamo vivendo. Ecco perché il regno della quantità, questo aspetto quantitativo è il grado zero della discesa, di una discesa dall'alto, è il punto massimo della nostra separazione dal tutto e quindi del nostro progressivo allontanamento dal principio primo, potremmo dire. lo stesso dominazione dell'Occidente che domina il mondo dal punto di vista culturale, il comunismo pensiamo, è nato qui in Occidente, l'illuminismo nasce qui in Occidente, i diritti umani nascono qui in Occidente e tutto questo sviluppo tecnico che a un certo punto del quale si perde il controllo, e che ci porta a vivere quello che stiamo vivendo adesso, gli uomini separati e con la museruola, tutto in un indistinto. Quindi l'Occidente per Guénon coincide con la modernità che è legata alla fine del ciclo e scrive proprio Guénon da questo punto di vista, poiché l'Occidente è proprio il punto in cui il sole tramonta, dove esso arriva al termine del suo percorso diurno e dove, secondo la simbologia cinese, il frutto maturo cade ai piedi dell'albero. E questo stiamo vivendo. E un'altra coppia fondamentale nella concezione guénoniana è unità-molteplicità. E questi concetti, per chi conosce Evola, sentirà risuonarli anche in Evola. Evola e Guénon hanno interpretazioni anche diverse su molti punti, però si rispettavano e stimavano nei fatti tra loro. C'è un principio originario che è l'unità originaria. La separazione da quest'unità, che è il ciclo nel nostro caso del Kali Yuga, ci si distacca piano piano da qualsiasi principio sacro. E poi Guénon approfondisce, è interessantissimo nell'aspetto dove parla dell'accelerazione degli ultimi tempi, facendo degli esempi tratti dalla fisica. Se andiamo su un palazzo e lanciamo un martello dal quarto piano, non è che scende a velocità uniforme. Man mano che va verso la Terra, viene attratto sempre più velocemente dalla forza di gravità. E questo accade alla fine del ciclo, dove il processo di oscuramento del principio primo, dove le forze telluriche, potremmo dire demoniache, si scatenano, diventa sempre più accelerato. Ed è noi, proprio i ciechi, che non lo sanno vedere. La visione tradizionale, guardate, è completa, perché trovate tutto scritto lì, nella visione tradizionale. E anche come orientarvi, come comportarvi. Per questo il decimo toro è importante, la sopravvivenza del decimo toro. Unico canale tradizionale, in questo senso, di internet. Poi c'è anche un canale dei miei allievi, è rispettabilissimo. Quindi tutto in realtà è prestabilito dalla dottrina delle quattro età. Noi viviamo l'età del ferro, abbiamo detto il Kali Yuga. Prestabilito abbiamo visto non in senso legato alle previsioni dei maghetti. Io ho fatto l'esempio dello studioso del meteo. E quindi le persone ignoranti, cioè che mancano di conoscenza, non si rendono conto di quanto stanno vivendo e si abbandonano alle forze telluriche, alle forze oscure della fine dei tempi. La persona invece, il tradizionalista, nel senso in cui si intende pure il decimo toro, questa visione tradizionale invece, ha ben chiaro quello che sta succedendo. Per questo che poi non si può provare paura o che è. Arriva l'inverno, si è freddolosi. L'inverno arriva, ragazzi. Non sbocciano i fiori in inverno, non ci si può aspettare fioriture e bisogna ben attrezzarsi. Purtroppo perché gli uomini poi vanno in depressione, adesso si terrorizzano? Perché non sanno quello che sta accadendo e quindi non sono ben attrezzato interiormente rispetto a ciò che, mi dispiace di dirvelo, ma nei prossimi mesi peggiorerà ulteriormente perché continuerà questa accelerazione. Questa teoria dei cicli avrete capito che comprende tutta la storia e quello che è il progresso secondo la modernità, secondo le concezioni luministiche, è un grande regresso. È un progresso, potremmo dire, in senso negativo, perché ci si allontana sempre di più dall'elemento sacro, spirituale. Guardate cosa sta accadendo adesso, ad esempio, tra i cattolici. Ma in tutto il mondo è così. Pure i buddhisti hanno una situazione drammatica. Il Dalai Lama ci lo fanno vedere tutta. Andatevi a vedere i miei video sul Dalai Lama, sulle dichiarazioni che ha fatto. È proprio impazzito, nonostante che lo chiamano ancora santità. Come a Bergoglio dicono ancora santità pur a Bergoglio, ma sono totalmente fuori ormai da un discorso sacro e spirituale entrambi. Ma è perché è una questione di la fine ciclo. E quali sono le caratteristiche della fine del ciclo? Ci sono discritte proprio dalla tradizione. Sono migliaia di anni che si tramanda la tradizione. Allora, la fine del ciclo. Materialismo. E ci stiamo pienamente. ci stiamo pienamente. La mancanza di sacralità e di principi elevati. Perché? Perché ci si affida ad una scienza che non è più la scienza legata al sacro dell'antichità, ma è un sapere scientifico legato al materialismo. E lo vedete tra voi. Poi il governo democratico. In quest'ultima fase adesso diventerà poi il paradosso, una sorta di ossimoro, una dittatura democratica. E comunque la fede nell'opinione della maggioranza, l'individualismo, sempre caratteristiche, e la società, la politica che dà spazio solo agli aspetti quantitativi della vita. Questo porta all'uniformità tra tutte le cose, le persone. E al macchinismo. Il macchinismo è la macchina che prende il sopravvento sull'uomo, che viene sempre più considerato come una macchina. Pensate alla concezione che hanno adesso i vari Bezos, questi del grande Reset, il transumanesimo, tutte queste dottrine subversive che sono nate in questi ultimi anni e decenni. E quindi poi l'estensione nel mondo dei prodotti dell'industria che trasformerà nel mondo. Altra cosa importante, l'anonimato e la scomparsa dei mestieri. Ne parla pure questo Irene Gheron, che è quello che adesso hanno intenzione di fare, facendo fallire i vari ristoratori, i bar, tutte e tre centomila imprese che hanno chiuso nel 2020. Questa fa parte dell'accelerazione, ma se ci pensate, già era iniziato prima questo processo. Pensate ai vari ipermercati che già divoravano i piccoli commercianti. Pensate com'è andata questa privazione di identità sotto spoglie che sembravano bellissime. Quanto sono buoni gli animalisti che pensano agli animali e alla fine danno più importanza agli animali che non agli uomini. Ui vegani, che fantastica l'alimentazione vegana e intanto privano dell'identità alimentare, che è una privazione soprattutto in Italia con questa varietà alimentare, che è uno stravolgimento. Il gender, sì, che male c'è se si amano due uomini e due donne. Io mi posso sentire uomo, donna e anche lì privazione dell'identità sessuale. E tutto questo un po' alla volta, io che mi interesso per esempio di tradizione da quando ero giovane, ho seguito passo passo tutto questo. Tant'è vero che i miei discepoli. Gli dicevo sempre, mi piace più allievi, discepoli no, allievi. Dicevo sempre guardate che voi la vedrete queste cose. Gli davo la descrizione. Loro lo possono testimoniare. Non so se le vedrò io, se farò in tempo a vederle, ma voi vedrete proprio l'accelerazione finale. Questo è proprio sicuro. Ve lo possono testimoniare. L'ho detto molte volte, non una volta sola. Non mi sarei mai immaginato che mi sarei trovato all'interno di questa accelerazione. E poi l'esaltazione della collettivizzazione, proprio il formicaio, il verminaio, il razionalismo che porta a un disinteresse della metafisica, rispetto alla trascendenza. Tutto deve essere legato all'economia, a una concezione esclusivamente quantitativa che comprende anche la moneta, ma anche la scomparsa della moneta, ma sempre più dal punto di vista della quantità, perché si va in un mondo sempre più artificiale. E la sostituzione della religione con riti civici e laici, destinati alle masse. E qui poi, con le maschere in chiesa e la mucchina invece dell'acqua santa, questi sono stati proprio dei segni che dimostrano quanto la dittatura sanitaria ormai ha presa totalmente la prevalenza su quel poco di religione, quella scimmiottatura di religione che era già rimasta dopo il concilio Vaticano II nel caso del cattolicesimo. Ripeto, è una questione che riguarda il mondo questo, i cattolici sono una piccola parte nel mondo. Quindi il tradizionalista ha le idee chiare. La tradizione di cui parla non è la tradizione legata a qualcosa di umano, ad esempio la tradizione del Natale, del festeggiare i compagni, no. La tradizione, secondo la concezione evoliana, genoniana in questo caso, è oltreumana, potremmo dire, è l'oltreuomo di Nietzsche, no, è diverso però. Comunque sovrumana nel senso di legami con il metafisico, è un tradizionalismo che vede nel mondo in azione un piano superiore e gli eventi devono conformarsi a questo piano superiore. L'essenza delle cose è diversa da ciò che vediamo. Il piano esteriore è illusore, è una copertura, è una sorta di come stare a cinema, no. La realtà è lo schermo bianco e si vede sempre di più le immagini che vi si proiettano sopra scambiandoli per reali. e quindi genon ci illumina sulla falsità della dottrina del progresso, ripropone la tradizione come determinata da leggi sovrastoriche, metastoriche, cioè che superano il concetto di spazio e di tempo e in una ciclicità che si svolge senza interruzioni. La differenza con la persona comune che non si rende conto è essere consapevoli. Oltretutto le dottrine cicliche ci portano a vedere che la fine dei tempi concide con un ribaltamento, perché non si potrà mai arrivare, ecco, il non prevale ebunt famoso, non potranno mai prevalere le forze del male. In questo concorda anche Genon con la sua analisi partando da un'ottica tradizionale. Ci dice sì, questa solidificazione, questo staccarsi dall'elemento sagro può arrivare sempre fino a un certo punto, anche quando sembra tutto perso, perché la nostra realtà, la nostra essenza è spirituale, e quindi noi siamo fatti così, non è possibile materializzare anche quella. Quindi la fine del ciclo consiste in un ribaltamento della storia, la fine di un'umanità materialista, individualista, regata al legno della quantità, ridotta a muse e ruole che non si toccano e non si vedono e l'idea di progresso ci ha portato in realtà a questo disastro che Genon aveva perfettamente previsto e illustrato nei suoi saggi, concludo con un brano proprio tratto dalla crisi del mondo moderno. Se dunque si dice che il mondo moderno subisce una crisi, ciò che così si vuole abitualmente esprimere è che esso è giunto a un punto critico, in altri termini, a breve scadenza, volendolo o no, in un modo più o meno brusco, con o senza una catastrofe dovrà inevitabilmente sopravvivere un mutamento di orientazione. Questo significato dato al termine crisi è del tutto legittimo e corrisponde in parte a quello che noi stessi pensiamo, ma solo in parte, poiché, ponendoci da un punto di vista più generale, noi crediamo che tutta l'epoca moderna nel suo insieme rappresenti per il mondo un periodo di crisi. Sembra d'altronde che ci si avvicini alla soluzione, il che rende oggi più particolarmente sensibile che in qualsiasi altro periodo il carattere anomalo e anormale di uno stato di cose il quale dura già da qualche secolo, ma le cui conseguenze mai furono così visibili quanto ora. E questo lo scrivano in 45, pensate oggi. Vado avanti. Questa è anche la ragione per cui gli avvenimenti di oggi si svolgono con una velocità che sarà sempre più accelerata. Ciò senza dubbio può continuare ancora per qualche tempo, ma non indefinitivamente. E anche se non si è in grado di fissare un limite preciso, pure si ha l'impressione che un simile stato di cose non può durare ancora per molto. Ragazzi, che bomba! Bene, cari amici e cari amici, sottolineo l'importanza del decimotoro, unico canale tradizionale che porta la visione tradizionale in internet. Quindi datemi una mano, date un contributo al decimotoro in modo che potrò farlo vivere e aggiornarvi quotidianamente con molti video. Altrimenti, per motivi personali che non sto a dirvi, il decimotoro diventerà un canale nel quale i video verranno pubblicati saltuariamente. Questo dipende anche da voi. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.